Allora, non so neanche perché sto facendo questo video, ma mi dicono tutti che mi spavento di un cazzo e voglio vedere se effettivamente è così, cioè in realtà lo so che è così, però mi voglio male e io so che tutti stanno facendo la prova a non spaventarti, ma vedo che non si spaventa il cazzo di nessuno e io sono nata per cagarmi ad osso e Dani si diverte tantissimo a farmi vedere quei video di merda in cui sbuca la bambina all'improvviso e fa... Io faccio degli urli e l'ultima volta me l'ha fatto vedere uno che non succedeva un cazzo, non succedeva un cazzo, se quando inizi un po' a passirti che lo guardi un po' così, ad assopirti, ad assopirti che lo guardi un po' così a un certo punto sbuca una faccia di merda, io lancio il telefono, meno male che sul tavolo le faccio e qui ho detto, minchia, qua ci sarà da divertirsi a fare rallenti e ho trovato un video che si chiama Prova a non spaventarti YouTube Italia Challenge e dura 4 minuti e 45, voglio vedere quante volte mi esce lo stronzo dal culo, insomma quindi 3, 2, 3, 2, 1, via ho paura utilizza le cuffie auricolari per un'esperienza migliore sono cazzo, uso ho paura, che cos'è questo? no, non le voglio vedere no, non le voglio vedere no, no, non le voglio vedere no, no, non le voglio vedere Cosa mi fai? Cosa cosa? Vai a respirare così! La 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 la, no guardo! La 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 No aguardas mi choro Ese mosano cina Sta soffrendo tantissimo Non so che sbuca Non so che sbuca quella toglia E' un cagatone Vabbè qua è corrente Ma non è corrente Ma questa è la prova a non piangere Mi sono venuto da piangere Che cos'è Si sta trollando un parente Quanto manca? Cosa fa questa qui? Cosa fa? E' una bambina Danza in cameretta Con la tua manina al vento L'ho capito al volo E basta E' una bambina Chi è? Oh fuck Ma cos'è? Cos'è? Quanto manca? Quanto manca? Ho venuto in parte a 5 Che cosa è marcia questa cosa? Quella era bellissima Ma non faceva paura Ma sono queste bambine sghembe Perché devono essere tutte sghembe? Non ci può essere un fantasma fido Che cazzo orribile Che cazzo orribile Che cazzo orribile Vedete che è finito Ancora 40 secondi Potete resistere con me Non mi abbandonate Non so che sbucca 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 Tappate anche voi Sbucca Me lo sento Sbucca Sbucca Che cazzo è un smr? Che cos'è? Che cazzo è? Ma l'ultimo? Che cazzo è? Ho scartato un cornetto algida Comunque questo è Ditemi se siete riuscite a vederlo fino alla fine Mi raccomando Non mi potete lasciare abbandonated Dovete guardarlo tutto Direte Se siamo qua Lo fin ovvio che l'abbiamo visto tutto Sono una cretina Mi ha usciuto la voce Sono una cretina Sono il padre di mia madre Va bene Sì Abbastanza ansiante Ne ho viste di peggio Ma non ne andrò a cercare O se volete linkarmene uno Particolarmente In sconvolgitud Linkatemelo qua sotto E lo farò con Dani Così almeno si spaventa un po' Anche lui una volta nella vita Va bene Questo è tutto ciò è ordinato Attentate La prima volta Attentate E lo farò con comfort In scopo